Io penso oggi abbiamo dimostrato, io dico al Paese, non solo all'Emilia-Romagna, come quando ci si mette insieme, in particolare noi, l'Ambi, i consorzi di bonifica, e si presenta un piano da ben 220 milioni di euro che potrà garantire nel giro di tre anni tantissime realizzazioni di piccoli e medi invasi che aiuteranno in prospettiva, ma anche in alcuni casi, già da subito, a nennere più il dramma dell'emergenza acqua. Un tema molto sentito, serve all'agricoltura, serve ai nostri territori, abbiamo bisogno di garantire un piano di interventi che dia una mano a evitare la siccità o, quando la siccità arriva, a evitare che provochi dei drammi e dei disastri. Di questo abbiamo ragionato, è un fatto molto importante perché, ripeto, l'Emilia-Romagna in questo modo si mette in condizione di correre e correre in maniera straordinaria.